Un'azienda retina ha avviato i lavori per costruire il nuovo maxicentro di distribuzione di Amazon nel centro Italia. Il colosso di Seatola è investito su una struttura di 160.000 metri quadrati che rappresenterà uno dei principali snodi per servire gran parte della penisola e per questo progetto si è affidato ad alcune realtà d'eccellenza nel panorama manifatturiero italiano, tra cui la Premac di Arezzo. Questa azienda, nata nel 2012 all'interno del gruppo Macevi, si occupa di progettazione e realizzazione di prefabbricati in calcestruzzo ed è stata scelta per la fornitura di tutte le strutture portanti. Dai pilastri alle travi del centro di Amazon, che sorgerà a Passo Corese, una frazione del comune reatino di Fara in Sabina, a 30 km da Roma. L'appalto, firmato a Milano, prevede la conclusione di lavori entro il 15 dicembre ed è accompagnato da numeri da record. Si tratta della più grande struttura in costruzione del centro sud Italia, ha richiesto un investimento di 150 milioni di euro e dentro tre anni dall'avvio delle attività porterà 3.200 posti di lavoro. Premac è l'unica realtà toscana coinvolta nel progetto e per farsi trovare pronta di fronte a questo lavoro ha avviato a sua volta alcuni investimenti per una riorganizzazione e un implemento delle forze, oltre agli attuali 60 dipendenti. Nei suoi quattro anni di attività l'azienda ha già lavorato per realizzare le strutture prefabbricate di alcune catene commerciali ma si tratta della prima volta in assoluto che riceve un lavoro di tale dimensione e di tale portata con un appalto che la inserisce tra i soggetti di riferimento nel settore dell'edilizia a livello nazionale.